Buonasera a tutti e a tutte, penso che possiamo cominciare questa serata insieme, permettetevi per chi non conosce di presentarvi questo spazio che ci ospita, questo è Millepianico Working, l'urban center dell'ottavo municipio, uno spazio pubblico del municipio che però è riuscito nel corso degli anni a essere un punto di riferimento della cittadinanza grazie a un'esperienza che l'ha trasformato in un luogo che accoglie le nuove forme del lavoro, le nuove esperienze di lavoro autonomo che qua dentro tengono vivo uno spazio che garantisce un punto di riferimento alla cittadinanza per eventi, dibattiti, per iniziative istituzionali e non solo, per cui voglio ringraziare Filippe che ci supporta anche dal punto di vista tecnico questo pomeriggio insieme perché non è scontato riuscire anche nei luoghi pubblici, come ben sapete se avrete avuto occasione di incontrare altre sale convegni delle amministrazioni, tenerli vivi e non lasciarli chiusi, in qualche modo impolverarsi solamente rimandando in qualche modo di appuntamento appuntamento l'occasione per tenerli vivi, invece questo è un posto che quotidianamente è vissuto da tante persone che lo attraversano perché ha trovato una sua nuova funzione, anche una funzione ibrida ed è un po' secondo me la ricchezza anche quella di ragionare la città come una città che ha necessità di essere vissuta in maniera ibrida, intersezionale, trasversale alle sue funzioni, alle sue dinamiche, ciò che rende prezioso questo pomeriggio. Io sono qua per darvi il benvenuto, sono Medevo Ciacchi, il presidente dell'ottavo municipio e devo veramente ringraziare ovviamente Ludovica Schiaroli e salutare Ugo Roffi che non poteva essere qua con noi oggi pomeriggio, sono i registi di questo bellissimo documentario ma soprattutto permette di ringraziare Leila Maiocco che abbiamo inopinatamente prestato in questa fase della sua vita a Genova, abbiamo perso la sua collaborazione, la sua intelligenza qua a Roma, è stato un grave peccato che stiamo pagando nella nostra città ma prima o poi riporteremo Leila anche a lavorare su dei progetti qua a Roma, penso già lo stia facendo. E voglio dire solamente questa cosa, con Maia, Vetri, la mia sessuale cultura che interverrà dopo abbiamo non solo accolto la possibilità di diventare uno dei luoghi dove questo documentario su Sartori poteva acquisire vita, girare, costruire dibattito in giro per l'Italia e quindi essere ben felici e onorati di accompagnarlo qua, ma l'abbiamo fatto perché crediamo che oggi serva un ragionamento sulla città e sulle città che cambiano, che cambia un po' l'ordine dei fattori, cioè che quello che abbiamo conosciuto in altre fasi storiche del nostro paese, cioè un'attività regolatoria che viene tutta quanta dall'altro, una programmazione, in qualche modo uno schema rigido di disegno di quello che sono le aspettative e le finalità della città debba essere in qualche modo come minimo messo in discussione dentro una logica verticale, perché le città non funzionano più in una logica verticale, le città non possono più contare dentro il nuovo, permettetemi, anche sistema di mondo che viviamo su alcuni capisaldi del sistema politico e anche del sistema economico, ma invece credo e quello in cui crediamo fortemente è che provare a immaginare la potenzialità delle città nel nuovo millennio ci faccia fare i conti con un'attività di ascolto, di intreccio, di esperienze, di competenze, di saperi che sono accumulati a più livelli differenti, dal mondo del lavoro a, come immagino e so che verrà discusso dentro l'esperienza che racconta la vita di Sartori e quello che è stato ragionato in qualche modo in un percorso di una vita a Genova, potrei dire diversamente per quello che potrebbe essere accaduto ed è accaduto dentro Roma, dentro questa città che ha altri obiettivi, ha altre domande nascoste in qualche modo su cosa vive una grande petropoli come Roma nel nuovo millennio, nell'era della piattaforma, della logistica intensiva, dell'accumulazione in qualche modo che non fa più i conti con dei meccanismi della rendita, in qualche modo che sono quelli che hanno tenuto in piedi, oltre alla funzione pubblica, oltre alla presenza delle istituzioni, la vita di questa città. Per cui bisogna rivolgersi non solamente a chi è in grado e ha le competenze per essere un tecnico delle città, ad altri punti di riferimento. Io ringrazio lei di averci portato questo documentario perché è molto coerente con quello che almeno abbiamo l'aspettativa di fare, non so se ci riusciamo bene, è un camminar domandando in senso zapatista, proviamo a costruirlo giorno dopo giorno provando a dare un senso generale a delle piccole cose particolari che costruiamo dentro un'amministrazione territoriale, però io credo che nella grande fatica di fare amministrazione di un territorio, cioè di costruire delle risposte ai bisogni e alle richieste delle cittadine e cittadini, ci sia la possibilità di trovare il senso profondo di essere nel tempo che viviamo capaci di una risposta più generale, capace di essere coerenti con quello che sta accadendo in altre città del mondo, anche su una metodologia di ricerca e di ricercazione differente. Non è il pianificar facendo che ha fatto anche grande questa città ma ha creato anche grandi problemi con cui ci confrontiamo, io comunque quando parliamo dei problemi di altre stagioni della città, un po' comunque rispetto a quello che ha vissuto questa città negli ultimi 15 anni, un po' le rimpiango con i grandi problemi perché questa città negli ultimi 15 anni è caduta dentro un bel baratro che stiamo faticosamente provando a ricostruire alla luce però di una nuova ragion d'essere, dell'essere comunità e dell'essere città capace di affrontare le sfide del nuovo millennio e però ci sono delle persone che possono in qualche modo con il loro contributo dare un punto di vista che illumina dei percorsi. A volte queste persone lasciano un contributo che qualcun altro deve saper cogliere, quindi ringrazio Ludovica e Ugo perché hanno preso il contributo di una vita e l'hanno fatto diventare lo strumento attraverso cui generazioni come la nostra e altre potranno continuare a lavorare su quello che Franco Sartori e tanti insieme a lui hanno costruito in una vita che ha intrecciato immaginario e lotta che è un po' quello che proviamo a fare anche da questa postazione anche noi. Quindi vi lascio la parola, non so se c'è subito il film o prima il dibattito, lascio la parola a Ludovica e ti ringrazio ancora presentandoti. Grazie. Grazie a Medeo, grazie a Maya che avete voluto ospitare il nostro documentario e soprattutto grazie Leila che ha organizzato anche questa seconda proiezione romana dopo scena. Come hai detto bene te, a Medeo, in realtà l'idea era proprio quella di salvare dall'oblio una storia importante per Genova e non solo perché la storia di Franco Sartori è importante per noi che l'abbiamo vissuta a Genova ma anche per tante città che hanno vissuto la deindustrializzazione in Italia. L'idea che è nata da Luca Borzani e da Antonio Caminito che è qua con noi e poi dopo interverrà è stata proprio quella, perché erano amici e compagni di rotta di Franco, di raccontare e rendere omaggio a Franco a 25 anni dalla morte. Nel frattempo sono diventati 27 perché ci abbiamo messo quasi due anni a fare il documentario, io Ugo, Ugo è il regista, ha fatto le riprese e il montaggio, oggi non è qua con noi perché si è rotta una gamba in un incidente e quindi insomma vi porto i saluti e ci sono io che invece ci ho curato le interviste e l'idea quando ci hanno chiamato era proprio ricordare Franco e il suo impegno politico e sociale. Noi abbiamo iniziato questa lunga avventura appunto di quasi due anni, inizialmente però doveva essere un omaggio breve, 15-20 minuti, poi abbiamo iniziato la prima intervista a Leila e come hai detto bene te, Amedeo Leila è una persona che ha vissuto tanto, ha dato tanto e l'abbiamo intervistata e abbiamo capito che non poteva essere soltanto Franco, che c'era tanto da raccontare e che la storia teneva insieme tante altre storie e così come quella delle donne di Cornigliano, la storia della deindustrializzazione di Genova e così siamo partiti, non sapevamo dove saremmo arrivati, infatti è stato un lavoro molto duro impegnativo, mancavano i documenti perché oltre alle interviste che si intrecciano dei protagonisti che sono la Leila, Leila Maiocco, Andrea Ranieri che è stato sindacalista all'epoca di Sartori, poi c'è Antonio Caminito, poi c'è Luca Borzani, Uliano Lucas e poi c'è l'attuale segretario della Camera del Lavoro di Genova. Si intrecciano però mancavano le immagini dell'epoca perché c'era poco, soprattutto c'era poco di Franco, quindi è stata una lunga ricerca d'archivio e poi anche grazie ad alcune immagini che ci ha voluto regalare perché ce le ha date gratuitamente Uliano Lucas, il grande fotoreporter, amico di Franco e di Leila che ha raccontato quella stagione, i nuovi lavori, insomma siamo riusciti a mettere insieme dopo questo documento che spero che contribuisca un po' a fare conoscere un periodo di storia che non è tanto lontano ma che non è neanche molto conosciuto, io l'ho vissuto che ero ragazzina e non mi ricordavo tutto questo, quindi l'idea è proprio salvare dall'oblio una storia importante di Genova ma non solo. Ora vi lascio alla visione e poi speriamo dopo anche nel vostro contributo e di parlarne insieme. Grazie, grazie a tutti. Nonostante i lavoratori liguri siano purtroppo abituati a scendere in piazza per difendere le fabbriche in procinto di chiudere. Una crisi che ha nelle 600 richieste di cassa integrazione. Dicono che con questa chiusura... Erano gli anni insomma in cui fare il sindacato significava contrattare in difesa. Era un sindacalista, c'è davvero nato, cresciuto all'interno di quel mondo sindacale genovese. Suo padre, prima di lui, era la fabbrica. E' complicato mettere insieme le donne di Cornigliano con i sidaruggi, c'è... Ho detto, donna. La sua aspirazione tendenzialmente libertaria. Franca era fuori dal modello. L'inquinamento era... lo sentivi nei polmoni, lo sentivi sulla pelle. Avevi la paura di aver determinato la vita di tuo figlio. La classe operaria, il lavoro industriale, era certo importante, ma non poteva essere più il paradigma attraverso cui leggere tutto il mondo. Occorreva provare a immaginarsi un futuro, perciò. Questa città ha bisogno di un sistema industriale, in cui ci sia di nuovo la rinascita, la ricostruzione delle piccole medie aziende, delle medie aziende, e naturalmente di un sistema di cervello, che sono i quadri, i tecnici, gli impegati, che tutti insieme ridiano a Genova un ruolo industriale. Un sindacato non corporativo, un sindacato non chiuso. Sembrerà facile, ma un conto è difendere il lavoro, un conto è difendere le proprie condizioni sul territorio. Affrontami i temi che dovresti affrontare anche oggi, partendo da chi? Da chi sta a pregi. Ora, ragazzi, siamo tutti poi fragili, eh? Così Bruno Trentin ha espresso il pensiero della folla che stamane ha salutato Franco Sartori nella sua Sestri. Ecco, Franco era proprio un'altra cosa, cioè il tema non era possedere, era molto spesso quello invece di dare. Mi ha lasciato una grande nostalgia di lui. Una città che si reinventa, si reinventa anche sulla strada che ci aveva indicato Franco Sartori. Allora, prima di tutto voglio ringraziare tutte le persone che hanno partecipato a questa presentazione del film su Franco Sartori. Ringraziare alcuni ospiti d'eccezione che sono Maddalena e Sandra. Ringrazio Maia Vetri perché si è occupata dell'organizzazione di questa presentazione. Devo dire che con grande passione, nonostante fossero tanti gli eventi programmati in questo periodo, vicino al 25 aprile, il primo maggio, il fatto di aver inserito la presentazione di questo film ci rende veramente molto... cioè è una cosa che ci onora perché il fatto che Roma ospiti un'esperienza del genere che riguarda una città del nord, Genova, e una storia particolare che è quella dell'industrializzazione e di tutte quelle che sono state le battaglie di quella città mi rende particolarmente orgogliosa di aver lavorato vent'anni a Roma e quindi penso che questa sia una città particolare che accoglie una città aperta. Ringrazio Antonio Caminito che si è fatto un viaggio lunghissimo per venire a Roma perché comunque è lungo, sono cinque ore sempre, comunque da Roma a Genova e viceversa e quindi volevo chiedere veramente un piccolo intervento e poi chiedo ad Antonio di venire qui e di raggiungerci a Maddalena e Sandra e anche a Maia, ovviamente. Dico Maddalena e Sandra perché mi conoscono e hanno conosciuto i vent'anni romani e quindi conoscono la mia esperienza diciamo nel versante che qui è sfiorato che è quello del femminismo e mi farebbe piacere un attimo fare una riflessione con due donne che amo e stimo moltissimo e che ho avuto l'occasione, la possibilità di conoscere in questa mia esperienza romana. Però vieni Antonio perché è una prova. Vieni Antonio. È una prova. Maia. Vieni Maia. Felipe si diceva, permette. Allora, chi parte per prima? Maddalena. Allora, arrivo subito. Ma questo microfono... Non oso. No, 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 va benissimo. Allora, io cercherò di essere breve perché, insomma, l'orario lo impone e anche se devo dire che mi dispiace perché le cose che avrei avuto da dire sono veramente tantissime. però partirei da cominciare a dirne alcune che mi stanno particolarmente a cuore. La prima è che io trovo che questo film documentario sia stupendo e che sia un dono veramente prezioso. non solo perché ci racconta la storia di un uomo non solo perché ci racconta la storia un pezzo di storia del nostro paese ma perché ci invita a riflettere ed io è la quarta volta che lo vedo in poche settimane e più lo vedo e più penso quello che vi sto per dire che ci invita a riflettere su qual è la postura che ciascuna e ciascuno di noi può scegliere nello stare il mondo e scegliere se stare dentro o fuori il sistema se stare dentro o fuori gli schemi come si raccontava anche attraverso le tante voci che si sono susseguite e cosa questo comporta che cosa comporta essere un'anomalia nei luoghi che tutti noi attraversiamo questo è a proposito degli insegnamenti del femminismo un pezzo importante degli insegnamenti del femminismo attraversare gli spazi con corpi che sono dei corpi sessuati e che non sono dei corpi neutri ci insegna immediatamente che cosa significa stare scomode che cosa significa essere un'anomalia che è una parola che viene utilizzata a più riprese per descrivere Franco e che cosa vuol dire essere sempre fuori dagli schemi non è sicuramente comodo però ha dei grandi vantaggi ha il vantaggio di essere imprevedibili ha il vantaggio di essere spesso imprendibili e ha anche il grande vantaggio che è uno di quelli che secondo me dei grandi vantaggi che Franco ha saputo cogliere di saper riconoscere i tuoi simili e le tue simili quando sei anomalia riconosci ciò che è anomalia insieme a te e io credo che sia una poi proverò a dire la seconda una delle ragioni per cui Franco capisce la portata del movimento delle donne di Cornigliano perché improvvisamente quelle donne e su questo mi sarei voluta allungare molto di più fanno una torsione fanno una torsione che è una torsione di ribellione a ciò che il patriarcato ha sempre insegnato loro cioè che il loro luogo sono le case che la loro attenzione è rivolta alla cura e che se proprio proprio sono sfiorate da un attacco di fantasia al massimo possono riflettere sulla natura come se questa fosse una vocazione femminile ecco e naturalmente viceversa agli uomini viene riservato il mondo del lavoro il mondo pubblico il mondo della strada il mondo in cui si prende parola sui grandi fatti del mondo e queste donne che non scoprono tutta questa storia che ci viene raccontata e sulla quale non torno e la loro lotta quotidiana contro le polveri non è che la scoprono nel 1985 l'hanno sempre saputa quando si incontravano al mercato e si raccontavano la vita quando appunto la giornata cominciava con il suono della sirena quando si combatteva con il bucato per non doverlo rifare tre volte e cercare di ritirarlo che non fosse ancora insozzato dalle polveri e quando si rifletteva sul fatto che quelle polveri non erano affrontabili perché penetravano ovunque penetravano nel cibo penetravano nei polmoni penetravano nella vita dei propri figli infatti Antonio lo dice a chi poteva se ne andava e restava solamente chi non aveva alternativa quelle donne fanno una torsione improvvisamente a un certo punto e non a caso questo accade dopo l'esplosione del femminismo si vanno a prendere la strada si vanno a prendere la strada e la vanno ad occupare la vanno ad occupare con i loro corpi con le loro istanze trovano un luogo che è un luogo fisico ma anche diventa un luogo simbolico dove potersi incontrare e dove ci sono queste immagini stupende di queste centinaia di donne che si riuniscono e discutono e vanno a confrontarsi con la politica vanno a confrontarsi col sindacato vanno a fare tutto quello che fino al giorno prima era puro territorio maschile fino ad arrivare a quell'immagine meravigliosa delle polveri che a un certo punto di fronte alla politica incapace di parlare un linguaggio comprensibile e di dare le risposte le polveri vengono sbattute su questo tavolo immacolato e tutto questo senza il femminismo io credo che non sarebbe mai potuto accadere non sarebbe potuto accadere anche il gesto di grande sorellanza che Leila fa nei confronti di queste donne e capisce che lei sta succedendo e lo dice nell'intervista ho capito che lei stava succedendo qualcosa di politico che mi stava parlando e quella è la sorellanza non che queste fossero donne che si muovessero diciamo in punta di teoria femminista da un lato mi sentirei anche di dire per fortuna a volte e l'ultima cosa che accenno è che l'invito di Leila mi ha fatto molto riflettere su una cosa che vi sembrerà bizzarra ma che è che cos'è l'amore perché ci sono delle relazioni come quella che ha vissuto Leila e come quella che vivo anch'io così mi dichiaro anch'io sono compagna di un sindacalista della CGL e ci sono degli amori che non nascono solo con i compagni del sindacato diciamo che però sono degli amori di militanza in cui si è sempre in tre si è sempre due esseri respiranti e pensanti e poi c'è la lotta e la lotta te la porti ovunque e questa cosa rende questi amori degli amori anche molto forti e anche molto difficili a volte in cui succede però una cosa per me estremamente appassionante che ci si prestano gli occhi a vicenda per guardare il mondo e allora io mi sono lungamente interrogata se anche la capacità di Franco nel cogliere questa anomalia fosse stata nutrita profondamente dal fatto che Leila gli ha prestato gli occhi per poter vedere quello che stava succedendo vabbè io mi alzo e me ne vado perché questa botta di emozioni tra il documentario e quello che hai detto tu adesso il silenzio sarebbe la cosa migliore perché uno sedimenta tutto questo e dice ok se io vengo qui stasera e incontro Leila dopo tanto tempo e la incontro attraverso una narrazione che è sì sociale politica culturale urbana di una città che io ho visto quando avevo otto anni quindi non mi ricordo assolutamente nulla se non che c'era un gran mare e che mi è mancato questo mare dentro questo documentario come se questa siderurgia avesse mangiato il mare non c'è un pescatore che è questo porto è un porto fatto di di macchinari si parla di cultura operaia io pensavo è il mare perché per me Genova l'unica cosa che io ho è una foto in bianco e nero con un cappotto che io mi ricordo rosso ma ovviamente ne è bianco e nero la foto infagottata perché era inverno con una sciarpa che mi copriva una specie di cappello col bacco che era un vizio di mia madre comprarmi quei cappelli orribili c'è una balaustrata c'è una nave e dietro il mare è una nave enorme e io mi ricordo Genova così quindi intanto straniata spiazzante questa è una Genova che io non conosco e invece conosco questa Leila perché una volta all'interno di quel posto terribile che è via Aldovrandi dove c'era la segreteria del sistema bibliotecario romano Leila cominciò a raccontare la storia delle donne di Cornigliano e io rimassi te lo ricordi zitta come adesso e le ho detto una cosa sola perché te le tieni per te queste storie perché io che non le so non solo mi incanto ma ne ho bisogno e questa è la mia risposta di oggi grazie vabbè mo mazzo io facciamo a turno autobuicottaggio allora io sarò dichiaratamente più banale diciamo che ho preso un sacco di appunti perché la prima volta l'ho visto come diceva prima Maddalena con degli occhi diversi mentre stasera ero un po' più polemica verso me stessa perché io comunque vengo da una storia che è tutta territoriale e quando ho visto per la prima volta questo documentario ho pensato che ci sono tante garbatelle nel mondo in giro per il mondo perché garbatella come dicono in tanti più che un quartiere è proprio uno stato d'animo cioè è un luogo dove in automatico tu vieni vieni preso dalla non voglio dire dalla lotta perché mi sembra un po' eccessivo ma vieni preso proprio dall'atmosfera che ti porta ad essere polemico critico dolce sentimentale cioè garbatella è veramente un quartiere strano perché comunque nel bene e nel male ti risucchia io ormai da quando ci vivo e da quando ci faccio politica e da quando poi siamo diventati anche questa parola brutta amministratori amministratrici mi riesco a vedere tutti i chiaroscuri ci sono delle cose che ti fanno riflettere delle cose molto belle altre ancora molto brutte e ancora molto anni 80 che non sono cambiate io mi ricordo quando ero piccola era molto forte la presenza dell'eroina a Garbatella molte persone poi nel tempo sono morte altre sopravvivono sopravvivono e galleggiano qui in giro per il quartiere le vedi che camminano e diventano sempre più parte dello sfondo invece poi c'è tutta una marea di belle situazioni di situazioni potenti lo raccontavo poco fa per esempio la biblioteca Moby Dick prima era un mobilificio e siccome a noi non stava bene che c'era un mobilificio inutile in disuso l'abbiamo occupato materialmente per diciamo un mesetto circa poi siamo andati a bussare le famose istituzioni e le abbiamo detto noi qui ci vogliamo una biblioteca e vogliamo anche decidere che cosa metterci dentro vogliamo anche decidere come chiamarla e poi che è successo che le istituzioni ragionevoli all'epoca ci hanno detto di sì e quindi da lì è nata quella avventura poi c'è un parco che prima era un parco abbandonato che poi è diventato lo spazio di un'associazione culturale che si chiama Casetta Rossa che adesso lo gestisce da ormai vent'anni poi c'è un centro sociale che è un magazzino abbandonato e che è diventato appunto cioè qui diciamo questo è un quartiere in continua trasformazione che dà un nome un riconoscimento e un potere alle esperienze fatte di persone poco più avanti c'è l'esperienza di lotta continua il Carlotta cioè se tu ti fai una passeggiata per Gerbadella vedi che comunque è un luogo in cui la memoria è potente è forte ancora e infatti noi adesso da amministratori non facciamo altro che mettere targhe mettere pietre fare murales perché comunque vogliamo che questa storia non si disperda e quindi io per questo vi ringrazio perché questa è una storia importante cioè non c'è niente di più come dire utile e fondamentale anche a livello dico biegamente strumentale che raccontare delle persone che hanno fatto la storia con la S minuscola no? cioè tante piccole storie che hanno fatto l'importanza della trasformazione delle città io non conosco bene Genova ma in effetti anch'io la associo al mare e in questo caso l'ho associata tantissimo all'inquinamento a tutte quelle nubi al fatto che comunque non puoi estendere i panni e mi sono chiesta alla fine che cosa fa la politica in questo anche io che cosa faccio e ho pensato che forse una spiegazione una definizione del fare politica è rendere visibile quello che non si vede no? è fare in modo che di far emergere di far salire a galla quello che agli altri non si vede io poi mi occupo per eccellenza dell'invisibile perché mi occupo di cultura praticamente mi occupo dell'immateriale no? cioè tanto che neanche ci danno più soldi tipo arrangiatevi qualcosa tirerete fuori e poi alla fine succede che qualcosa lo tiri fuori no? perché comunque lavoriamo tantissimo sul riesumare sul disseppellire le asce no? i racconti le narrazioni i video noi abbiamo prodotto tantissimi video di racconti di narrazioni di testimoni e quindi diciamo che in sostanza vi ringrazio per questo perché c'è da costruirla cioè c'è ancora da costruire tanto e questo è un e questo ti dà forza perché vedi che comunque un cambiamento avviene no? non soltanto nella tua testa come diceva prima perché poi c'è anche una forte verve critica nei suoi confronti no? e questo mi piace perché restituisce molto l'umanità di Sartori quindi vi ringrazio per il lavoro che avete fatto per averlo portato qui a Garbatella che è casualmente ma non casualmente il posto giusto dove poterlo accogliere ecco quando me l'avete proposto ho detto mi hanno messo a leggere poi a dire la verità ho anche viaggiato un pochino con la fantasia ho pensato alle comunità zapatiste anche c'è qualcosa che riguarda l'intersezionalità cioè comunque la cura per l'ambiente l'importanza che viene dato anche alla parità tra le persone alla vita degna no? perché comunque il tema non è solo il lavoro il tema è il contrario è vivere degnamente cioè il lavoro è una parte mentre per tante persone ancora oggi il lavoro rappresenta la sopravvivenza quella non è chiaramente vita no? e quindi il sindacalismo oggi che cos'è la politica oggi cosa sono potremmo parlarne per ore però in sostanza è secondo me mettere al centro la qualità della vita delle persone ecco appunto come ha fatto Franco quindi grazie per questo lavoro è veramente entusiasmante mi piacerebbe portarlo anche nelle scuole mi piacerebbe portarlo nelle università noi qui abbiamo nelle aziende cioè fare una proiezione anche nelle perché no? perché non ci pensiamo mai nei luoghi di lavoro che possono essere luoghi di cultura invece lo dovremmo fare ecco quindi se volete ci impegniamo per farlo grazie ancora grazie due cose velocissime che cosa che cosa è rimasto del dopo filmato che cosa ci ha insegnato a noi la città è cambiata e molti dentro la città si sentono degli sconfitti perché in qualche modo sono nate battaglie per provare a difendere quella che era la comunità non era solo un lavoro lì quando ci imposero la siderurgia al centro della città la politica di sinistra allora quelli che rappresentavano il mondo del lavoro furono contrari partirono scioperi cioè non ci metti un pezzo di un'azienda altamente inquinante al centro di una città che ha un'attività produttiva importantissima non solo per la città ma per tutto il paese lì si sviluppavano una serie di prodotti davvero già allora altamente tecnologici quindi vedemmo questa cosa allora come una sorta di forte provocazione quella cosa fu come dire la miccia che fece esplodere la città perché l'inquinamento nasce insieme all'Ital Sider però insieme all'inquinamento dell'Ital Sider nascono poi come dire le prime reazioni reazioni molto forti io sono stato per un po' il segretario dei chimici e fui talmente fuori dagli schemi che portai in tribunale il padrone ci costituimmo parte civile contro un padrone che si chiamava Stoppani che allora era vincemmo la causa vincemmo la causa convincendo una donna una moglie una vedova a venire con noi in tribunale e fu l'unica ad avere il coraggio di insieme a noi matti di arrivare in tribunale e denunciare il padrone vincemmo la causa fu la prima allora fu una cosa davvero rivoluzionaria perché costituirsi parte civile già il riconoscimento del tribunale riconoscere la vedova e il sindacato come parteci fu una cosa davvero abbastanza rivoluzionaria però lì chiediamo noi con l'insegnamento di Trentin di fare un referendum nel paese della Cogoletto Cogoletto da Renzano che era il paese più vicino un referendum fra i cittadini per capire se la fabbrica era voluta o non era voluta e insieme a questo noi abbiamo fatto le assemblee sui posti di lavoro sul posto di lavoro io ho fatto le assemblee terribili in cui spiegavo ai lavoratori che se perdavamo la fabbrica andava chiusa e andava riconquistato un nuovo posto di lavoro e quindi l'idea è sempre quella quando come dire c'è qualcuno che ti spiega che la tua vita deve avere un percorso che è quello che lui ha disegnato e domandarsi sempre se il percorso è quello corretto o me perché quei bambini che morivano che diceva Andrea erano bambini che morivano davvero a Bolzanetto che è un paese vicino al centro città c'era una fabbrica che si chiamava Sana che faceva i mattoni di refrattari per la siderurgia noi chiedemmo di fare un'indagine epimediologica con chi stava di fronte alla fabbrica perché lì i fumi erano l'indagine portò a un risultato che conoscevamo già la percentuale di silicotici fuori dalla fabbrica su quella striscia di case lì era identica a quelli che lavoravano dentro la fabbrica compreso donne bambini era la stessa la fabbrica poi si chiuse adesso c'è i mercati generali ecco questa cosa però del perché non nasce perché gli uomini non hanno molto coraggio sono un po' come dire un po' timidi e un po' paurosi questa cosa perché nasce dalle donne perché questa idea lì a Cornigliano che tutte le volte dovevi chiedere il perché arrivava il politico e ti diceva che ma perché perché non c'è un percorso alternativo ma che c'è questo è secondo me quotidianamente ci insegnava qual era il percorso e l'altra cosa e poi la pianto lì un giorno davanti alle fabbriche genovesi ci fu un incendio terribile dentro una nave che si chiamava Aven ci furono cinque morti la nave esplose una pompa perché stava trasferendo del petrolio da un deposito all'altro esplose perché la manutenzione era stata fatta a Singapore costava pochissimo quindi anche ti arriva una nave malgrado tu come dire fai la battaglia sulle normative dentro il porto petrolico ti arriva una nave che ha fatto e ti esplode ci fu una trasmissione che si chiamava Rosso e Nero dopo un paio di giorni grande dibattito venne l'assessore all'urbanistica non vi faccio i nomi perché querele non ci ha già avuto abbastanza ci disse che la giunta aveva deliberato lo spostame la chiusura del porto petrolio aveva deliberato questa cosa non fu così fu una balla raccontata quel giorno Sartori chiese alla giunta in che modo le promesse che il politico ti fa tutte le volte possono diventare elementi concreti l'assessore all'urbanistica dopo questo che ci aveva raccontato una grossa balla era un democristiano che insieme a Sartori insieme all'esperienza fatta soprattutto dalle donne di Cornigliano si inventò una cosa che si chiamava piano territoriale di coordinamento cioè come far diventare le promesse politiche un progetto un progetto non solo un progetto per un pezzo per un francobollo ma è un progetto per tanti francobolli che stanno insieme tu disegni il territorio ma per quanto riguarda la prospettiva la scuola la formazione il sistema infrastrutturale la sanità come diciamo quindi tu politico non disegni la tua vita venendoci a raccontare delle storie ma insieme a noi con un confronto disegni il territorio su quel territorio ragioniamo insieme su che cosa fare ragioniamo insieme che oggi non si fa cioè se oggi sentite quotidianamente i progetti su PNRR che non si realizzeranno è qualcuno che sta disegnando la nostra vita e non riesce neanche a progettare qualcosa per avere dei soldi che ci sono già questo è il massimo pagheremo gli errori di questo in questo periodo nei prossimi anni in modo davvero ce ne accorgeremo scusate l'ho fatta lunga grazie voglio sicuramente ringraziare tutte e dire una cosa che per me è fondamentale tutto il percorso delle donne di Cornigliano è un percorso di pratica politica nel senso che è una pratica politica di relazione tra donne in realtà ciascuna crea un rapporto duale con l'altra che una dà forza all'altra e quella forza diventa come dire contagiosa cioè si allarga sempre di più fino a diventare un movimento pazzesco perché noi abbiamo visto le immagini ma voi dovete pensare che queste donne hanno fatto e io compresa per 17 anni occupazioni manifestazioni progetti programmi mostre libri sono stati scritti sei libri sulle donne di Cornigliano è stato fatto veramente tutto quello che si poteva fare e quella pratica politica come diceva prima Maddalena non era tra femministe io avevo avuto l'esperienza del femminismo le altre erano donne che erano partite da se stesse e si erano messe in gioco partendo da se stesse e quindi era venuto fuori con un'altra politica era possibile che si poteva uscire dalla logica della rappresentanza e del potere si poteva come dire costruire una forza in base proprio ai propri corpi alla propria differenza al proprio uscire dal patriarcato la capacità di prendersi in mano la propria vita a prescindere le discussioni erano infinite ma ad esempio le donne di Cornigliano scelsero la via sempre dalla discussione mai un referendum chiedemmo perché il referendum significava misurarsi tra lavoro e ambiente e questo non ce lo potevamo permettere perché sapevamo la risposta invece avevamo convinto migliaia di persone cittadini genovesi e non perché Genova e Cornigliano era diventato luogo di confronto a livello nazionale è venuto tutto il femminismo a confrontarsi con le donne in Cornigliano la libreria delle donne di Milano costruì un percorso con le donne un libro fondamentale che è quello che sfoglio mentre faccio l'intervista è autorità scientifica e autorità femminile negli editori riuniti la libreria delle donne di Milano costituì una sezione che era la sezione ipazia che si occupava di donne e ambiente e per noi fu fondamentale perché nel conflitto quello drammatico in cui si andò alla chiusura della coccheria noi il rapporto con il sindacato in quel momento non riusciamo più ad avercelo ma era ovvio perché i percorsi si distinguono e però per noi nasce un percorso nazionale e di grande supporto politico da parte del femminismo che secondo me forse in altre occasioni è accaduto non lo so non ne ho conoscenza ma lì è unico perché metti insieme competenti e incompetenti su un progetto di vita che diventa vita di tutti ora per Genova e non solo per Genova quell'esperienza non è ripetibile ma sicuramente non si può dimenticare e quando tu vieni a Genova e io lo consiglio a tutti è vero che non c'è più il mare è vero che non ci sono quello che c'era ovviamente negli anni 50 prima della costruzione dell'impianto siderurgico però stranamente e questo è per quello che abbiamo scelto di fare la Garbatella non è che è stato casuale abbiamo scelto Scena perché è un luogo del cinema e abbiamo scelto Garbatella perché è un luogo della politica e della partecipazione attiva dei cittadini povero però se tu vieni a Genova la cosa che ti colpisce è che si sono riconquistati pezzi di qualità della vita e della vivibilità del territorio di un'urbanistica anomala che non è quella del passato ma è già qualche cosa di contemporaneo di futuro che parte ad esempio da presenza di straniere di immigrati presenza di mondi che si incrociano e che si incontrano ancora adesso per gli immigrati a Genova andare a vivere a Ponente è considerato una conquista perché andare a vivere a Ponente significa entrare comunque in una comunità comunque in un territorio che ha più servizi di tutto il resto della città quindi quelle lotte sono accadute non in vano e però la cosa che voglio dire è veramente la pratica politica femminista è quello che ci ha condotto a portare fuori dalla logica del potere della rappresentanza e del misurarsi solo esclusivamente sulla contrapposizione ma invece misurarsi sulle soluzioni possibili e quella secondo me ci ha permesso anche di capire mentre le cose cambiavano che cosa stava accadendo alle nostre vite se no questa cosa si avrebbe portato in un vincolo cieco come è accaduto per altre realtà in Italia lì è stata una cosa diversa proprio perché c'era una pratica politica diversa grazie grazie grazie